Una nuova generazione di Intel non fa pensare bene per il futuro delle CPU blu. Finalmente arriva la fascia bassa su AMD, ma si inizia a parlare anche di quella di Nvidia. Queste e altre news nel nuovo episodio di Morden News. Allora, aspettate che anche oggi abbiamo delle critiche aspre verso Intel, ma invece Nvidia e AMD sembrano essere sulla strada giusta per qualcosa di interessante. Vi spiego un po' meglio, ma prima una notizia piccola piccola. Per gli appassionati del mondo dell'endeld c'è una bellissima notizia. Infatti serve soltanto l'approvazione di Valve perché si possa avere finalmente un plugin che renda compatibile l'Epic Game Store e GOG Galaxy con la Steam Deck. Quindi un po' come visto fino ad adesso per esempio con l'Xbox, non servirà più di fare 10.000 amageggi, rimane fuori soltanto Battle.net assieme a Ubisoft Connect. Onestamente molto molto valido. Come però ci riporta MordenTech.it appunto serve l'approvazione di Valve perché Junk Store, che sono quelli che hanno fatto questa integrazione, questa implementazione, possa effettivamente portare GOG ed Epic su Steam Deck. Soluzione veramente molto interessante, soprattutto perché sono due degli store più grandi dopo Steam, quindi di per sé molto molto valido. Abbiamo dei leak per quanto riguarda i 9000X 3D dai laboratori di MSI. E MSI, se sei l'ascolto, posso dirvi di guardare un po' meglio la vostra sezione di NDA perché evidentemente avete dei problemi, perché due news di oggi sono leak di MSI. Insomma, c'è un problema di comunicazione interna qui, eh? Ecco, però grazie, grazie delle anticipazioni. Abbiamo tre benchmark, due CPU, paragonate alla generazione precedente. Come potete vedere in Far Cry c'è uno stacco del 11% per la fascia dei 16 core e del 13% per quanto riguarda invece gli 8 core. Molto più piccolo la separazione invece in Shadow of the Tomb Raider, che però è un gioco abbastanza vecchio, non lo prenderei come esempio particolare, più 4% sui 16 e più 2% sugli 8 core. Mentre Black Mifu Kong pareggia su entrambe con soltanto un più 2%, onestamente veramente poco. Entrambi oltretutto testati su versione 24 H2, quindi l'ultima che appunto dà dei benefici a Ryzen, ma in questo caso in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda invece il paragone in multicore, abbiamo delle versioni tra i 9000 e i 9000X 3D con un multicore molto molto simile. Devo dire in questo caso interessante perché solitamente gli X3D peccano un pochettino di prestazioni rispetto invece alle controparti senza 3DV cache. E per quanto riguarda il single core, anche qui la situazione è abbastanza simile. C'è qualcosa che non mi torna in questi risultati? Devo essere onesto, personalmente non li prenderei come attendibili, anche perché ogni settimana ne esce uno che fa più 20%, uno che fa più 5%, uno 20%, insomma. Aspettiamo un pochettino. Tanto sembra che questi processori verranno annunciati nel mese di ottobre, ma su questo rimaniamo un attimino ad aspettare. Tanto sarebbero in caso il 25%. Sempre rimanendo su AMD abbiamo una buona notizia per la fascia bassa. Sto parlando della AMD Radeon RX 7650 GRE che sta per Great Rabbit Edition. Uno dei nomi più grandi in assoluto praticamente sarebbe la salvatrice della fascia bassa e finalmente anche un refresh in questa zona per quanto riguarda la serie 7000. Per quanto riguarda l'annuncio abbiamo dei dati che arrivano da questo blog cinese chiamato Bench Life che semplicemente ci riporta un po' delle informazioni tra cui il fatto che il chip appunto sia in linea, sia Navi 33 in linea con quanto visto fino ad adesso come categoria con la Navi 33 XT della 7600 XT e la Navi 33 XL della 7600. E dovrebbe essere annunciata SIS 2025? In realtà stanno già circolando delle smentite. Si dovrebbe comunque vedere nel primo trimestre del 2025 però di per sé sarà una cosa che interesserà prima il mercato cinese e poi quello internazionale, un po' come visto con tutte le altre GRE. Sicuramente interessante visti i precedenti della 7900 GRE. Attualmente queste sono le sole informazioni che abbiamo riportate da videocards, come potete vedere stessa architettura, Navi 33 e tecnicamente meno o stesse compute units per quanto riguarda il chip. Quindi di per sé bisogna vedere un attimino come spremeranno le prestazioni su una cosa del genere, ma soprattutto se si allineranno alla 7600 XT con i suoi 16 GB di memoria oppure se andranno sulla linea della 7600 essendo una scheda pensata, si pensa appunto per il gaming. Quindi di per sé non andrebbe a beneficiare troppo per la risoluzione di Target 1080p dei 16 GB di VRAM al momento. La 7600 XT qui presa in questione effettivamente ha così tanta VRAM perché costituisce al tempo stesso un'opzione per chi voglia fare accelerazione di inferenza di intelligenza artificiale in casa con un budget limitato, ma quindi avere tanta VRAM che è necessaria. E parlando di schede video di AMD sappiate che il prossimo Black Ops 6 non avrà soltanto tecnologie di upscaling di Nvidia come il DLSS ma godrà, come ci riporta videocards, anche del FSR 3.1, accompagnato quindi poi anche dalla frame generation. Oltre a queste due tecnologie al lancio troveremo anche il Contrast Adaptive Sharpening utile per chi non voglia insomma utilizzare upscaling ma migliorare quella che è l'esperienza nella determinata risoluzione di Target, quindi rimanendo nella stessa risoluzione. E devo dire che i requisiti del gioco fanno sperare bene, nel senso sono abbastanza contenuti alla fine Call of Duty non è mai stato più di tanto un mattone, come potete vedere la 6800 XT e la 3080 sono nei raccomandati per il competitivo, per il 4K Ultra quindi insomma un'esperienza già un po' fuori dal comune. processore molto molto basso, onestamente io per il competitivo un 2700X lo vedrei un pochettino faticare in base alla risoluzione di Target, però per il resto raccomandati raga un 1600X e un 6600 XT, veramente schede video entry level, molto molto bene, molto molto bene. Gioco che aspetto con ansia perché Black Ops è la mia serie di Call of Duty preferita e soprattutto include la modalità zombie che adoro. Passando invece a Nvidia parliamo un pochettino di questo CS 2025, ovviamente annunceranno tutte le schede video del RTX 5090 e 5080, probabilmente uscirà prima la 5080 almeno dai più recenti leak, ma la cosa interessante è che è uscita una ulteriore indiscrezione che vedrebbe posizionare tutte le schede video dalla fascia alta alla fascia bassa entro il primo trimestre del 2025. È effettivamente un qualcosa di senza paragoni, perché di solito insomma passano almeno sei mesi dalla fascia alta alla fascia bassa, se non di più farlo in un trimestre, quindi praticamente un'uscita al mese è qualcosa di concretamente strano. Quindi stanno i più recenti leak, avremmo la 5090, 90D, 80 a gennaio 2025 annunciata al CS, poi seguono la 70 e 70T a febbraio 2025 e infine la 60 e la 60T a marzo 2025. Ora, parlando ovviamente di rumor, di indiscrezioni, di cose che girano, però effettivamente raga insomma mi sembra un po' eccessivo, anche soltanto per il marketing delle schede, cioè non fai in tempo a tirarne fuori una che già devi proporre l'altra, ma anche banalmente in tempi di semplice fattibilità dei test, cioè febbraio sarà un incubo, sono quattro schede di intermezzo. Stando alla fonte board channel sembrerebbe che queste date siano effettivamente confermate al 100%, ora io prendo sempre tutto con infinite pinze e tranquillità, vi riporto le notizie, però devo essere onesto, a me sembra una serie di lanci veramente problematica dal punto di vista della diffusione, del marketing, ma anche semplicemente dell'informazione dei clienti, cioè mi fai adattare per anni ad una release che più o meno fa un rilascio di un anno per tutte quante le schede e poi mi passi a un massacro, cioè non faccio in tempo a parlarvi dell'80 che sto già pensando alla 60 con tutte quelle in mezzo. Non lo so, a livello comunicativo lo trovo molto molto faticoso, ma staremo a vedere. Qui abbiamo un pochettino delle informazioni possibili per quanto riguarda la serie 50 con appunto tutti i chip che vanno dalla 202 alla 206 teorica della 5060, accompagnata poi dalla 60T, 205 invece per le 70, chip intermediario per la 80 esattamente come visto nella scorsa generazione, teorici 12GB di GDR7 per quanto riguarda la serie 70, poi staremo a vedere la 70T che secondo me dovrebbe uscire come minimo con 16GB e quindi un bus da 256, poi vi dico queste sono informazioni che lasciano il tempo che trovano, anche banalmente il consumo di 600W della 5090 secondo me non avrà un riscontro reale, anche perché ricordiamo che il TDP nell'ultima generazione di Nvidia non è stato assolutamente fedele a quelli che poi fossero i consumi come invece l'avamo stati abituati, che più di TDP si parlava di TBP, Total Board Power, quindi di per sé 600 io non li prenderei in considerazione. Curioso però di vedere assolutamente che cosa faranno queste P6 5.0, insomma un pochettino come sarà la transizione e se ci saranno dei vantaggi nell'adoperarle o meno. Il Ryzen 5800 X3D è arrivato alla fine della sua vita ed è anche probabilmente il motivo per cui ormai si trova a dei prezzi veramente molto accessibili ma soprattutto con tanto margine di mercato come vi ho detto nell'ultimo video per quanto riguarda il mercato cinese. Di per sé siamo al canto del cigno per quanto riguarda questa generazione, il primo X3D oltretutto molto molto carino, ce lo riporta Computer Base e poi Tech Power Up, semplicemente raga è ora di dire addio a AM4 in maniera penso definitiva. Se annunciano altri processori come gli XT del Computex onestamente non ha più senso comprarli. L'apice l'abbiamo raggiunto con questo processore e gli facciamo tanti saluti e ringraziamenti perché ha creato veramente un trend di mercato incredibile per noi gamer. E passiamo un pochettino invece a parlare di Intel che onestamente mi fa preoccupare molto. Probabilmente vi dedicherò un video a Intel, anche più di uno, perché la situazione qua sta iniziando a diventare un pochettino strana e c'è tanta confusione sulle nuove nomenclature di Intel, ma soprattutto sulla sua situazione. Ora, il 24 ottobre parleremo di Intel Core Ultra, vi ricordo il video alle 17, vi aspetto lì per parlarvi delle prestazioni di questi nuovi processori. E sono una generazione che già dalle slide di Intel risulta un po' dubbia effettivamente, ma soprattutto sapete che cos'è dubbio? Che di recente, come citavo prima, un altro leak dai laboratori di MSI, che ripeto ragazzi, fate un po' di controlli interni che qua non siamo messi benissimo, cita la possibile esistenza di un Arrow Lake refresh, che dovrebbe andare a dare delle prestazioni extra su quella che è l'attuale condizione di Arrow Lake, si spera in meglio, visto che l'attuale Arrow Lake appunto non è poi così soddisfacente. Parlando di questo refresh, si metterebbe a tacere tutte quelle news che riportavano la possibilità che il 1851 come LGA fosse un socket che avrebbe visto una sola generazione, ovvero appunto Arrow Lake attuale, cosa che onestamente avrebbe reso questa generazione morta all'arrivo. Non vi posso parlare di performance ancora, ma onestamente dalle slide di Intel la situazione a me sembra tutt'altro che rosia. E per quanto riguarda questi leak, insomma, anche un refresh, un refresh quanto lontano, cioè nel senso un refresh come 12 e 13? Come 13 e 14? Sì, annunciato, plausibile, ma alla fine a che serve? Cioè, se già questa generazione è praticamente uguale alla precedente, se non con migliori consumi, che cosa fai? Una generazione che torna a consumare come i 14.000 per riuscire a spremere quel 10-12% di prestazioni in più, come succede da anni, tripli consumi, 10-12% di prestazioni extra? Non lo so, sono abbastanza preoccupato. Poi ovviamente nell'ambito B2B Intel rimane veramente molto interessante per chi appunto voglia consumare meno sulle macchine, magari 10-15 macchine installate in un ufficio, però il problema è un altro. Si è infatti iniziato a parlare di Nova Lake, che sarebbe la controparte desktop di Panther Lake, che per chi è rimasto un pochettino indietro, e vi capisco perché se ne parla di uno al giorno, Panther Lake sarebbe l'erede di Lunar Lake, che è l'attuale generazione mobile di Intel. Quindi, l'attuale generazione mobile di Intel avrà un'erede che si chiama Panther Lake, che per adesso conosciamo solo in una veste di un piccolo annuncio fatto ad un evento di Lenovo, che praticamente va a colmare quello che sarebbe il segmento 15-45 Watt attualmente appunto occupato da Lunar Lake e da Raptor Lake per quanto riguarda il mondo mobile. Praticamente sarebbe questo cipino qui nelle mani di Pat Gelsinger, ma la cosa interessante è che sarebbe la prima generazione di Intel basata su 18A. Il loro nuovo processo produttivo che sarebbe in linea tra i 3 e i 2 nanometri di TSMC, con architettura ibrida, appunto abbiamo i Cougar Cove, e poi non si sa per quanto riguarda ancora gli core, ci sono solo speculazioni, potrebbe essere Skymont, come no. Configurazione che per adesso sarebbe in linea con quella della fascia alta di Arrow Lake, almeno per quanto riguarda le speculazioni, un MPU 5 che sarebbe due volte migliore di quella di Lunar Lake, e oltretutto il debutto effettivo delle versioni Low Power Graphics di Xe3, che sarebbero Celestial, ovvero una generazione dopo Battlemage, di cui ancora non abbiamo visto le controparti desktop. Intel? Comunque di tutto questo se ne parla per la seconda metà del 2025. Il concetto correlato è che finché non escono le mobile, Intel non rilascia le desktop, che solitamente iniziano a diffondersi ben dopo le versioni mobile. E questo vorrebbe dire che il Nova Lake, l'effettiva innovazione, gioco di parole, finirebbe a essere una generazione magari del 2026, e se seguiamo i ritmi attuali di ottobre 2026, considerando un possibile refresh di Arrow Lake. Se non lo hanno cancellato, perché effettivamente sarebbe il teorico 20A, ma potrebbe anche non essere... è tutto un casino, raga, devo essere onesto. La situazione di Intel è molto incasinata, cioè troppi leak, troppi, troppi leak, troppe generazioni mischiate. Il concetto che però vorrei dirvi è che negli ultimi anni, almeno da quando recensisco processori e schede video, raga, io non ho mai visto Intel fare un salto di qualità a fine generazione, sempre il contrario. Si inizia con un buon processore, come per esempio i 12.000, e poi si prosegue con dei refresh, che servono più o meno. Iniziare con Arrow Lake, che è un po' dubbio, e chiudere la generazione con una bomba, per noi consumatori sarebbe fighissimo. Un po' come fa AMD con gli X3D, sarebbe una bomba. Però, visti i recenti di Intel, io ho i miei grossi dubbi. Ad ogni modo, staremo a vedere, tanto se ne parla, tra due anni. Io sto soltanto sperando che il 1851 non sia un tipo di socket morto all'arrivo, perché effettivamente sarebbe ridicolo. Per il resto, ragazzi, queste erano le news. Fatemi sapere ovviamente la vostra opinione, vi ricordo che le commenti e iscrizioni mi aiutano a supportare questi video, e a mandarli in giro al signor Aldo Ritmo, e noi ci vediamo al prossimo video. Voi state su Modern Tech, Salusa.